Con Gianfranco Duranti se ne va indubbiamente un simbolo della città di Arezzo e un simbolo anche del mondo dell'emittenza locale. Fondatore e direttore per oltre 40 anni della storica emittente televisiva Aretina Teletruria, è stato uno dei pionieri di questo mondo, ha vissuto tutti i cambiamenti epocali del giornalismo ma soprattutto delle tv locali, dalla trasmissione via cavo fino ad arrivare al digitale terrestre e poi comunque lo sbarco anche dei nostri media, indubbiamente su internet, sui social network. Ha guidato la sua televisione fino a che purtroppo una lunga malattia lo ha strappato agli affetti della famiglia e di tutti i suoi giornalisti e collaboratori. Noi ovviamente lo vogliamo ricordare come una persona che ha lasciato un segno in questa città, personalmente anche nella sottoscritta perché ci sono state tante occasioni di confronto per questioni comuni durante le quali assolutamente non ha mai fatto mancare i suoi consigli schietti e sinceri e per questo ovviamente lo ringrazio e conserverò davvero un bellissimo ricordo. Tante le persone che in questa giornata lo hanno voluto ricordare con messaggi pubblici sui social network, con espressioni ovviamente di cordoglio, noi scegliamo di leggerne una, quella del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che insomma per tutti rappresenta appunto la città di Arezzo. Sono profondamente addolorato, scrive Ghinelli, Gianfranco era prima di tutto un amico che non mi ha fatto mai mancare consigli e suggerimenti per quella che definiva la mia passione cromosomica per la politica. Questo appunto è il messaggio del sindaco, ha raccontato, dice, la storia della nostra città per oltre 40 anni, una conoscenza profonda e consapevole di Arezzo, che amava e che non mancava di criticare quando vedeva gli errori e le storture che lui percepiva. Ha insegnato ad almeno due generazioni di giornalisti come si interpreta un mestiere delicato e difficile e lo ha fatto con uno stile, un equilibrio e una correttezza esemplari. Mancherà molto a tutti noi, conclude il sindaco, a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Un abbraccio affettuoso ad Elena, la moglie, e ad Andrea, il figlio, con la certezza che Arezzo non lo dimenticherà. Ovviamente anche da parte di tutta la nostra TV, di Arezzo TV, arrivino le più sentite condoglianze alla famiglia di Gianfranco e alla redazione e tutto lo staff di Teleturri.